A scanso di notizie false in piena emergenza di coronavirus che circolano per ora, riceviamo delle presentazioni da parte del primario del reparto di cardiologia, dottor Giuseppe Caramanno. Ho il dovere, afferma il dottore Caramanno, prima da professionista e poi dal punto di vista umano, di ristabilire la verità. Cos'è accaduto in questi giorni nella nostra struttura? Il 16 marzo è stata ricoverata presso la nostra unità operativa una signora di 76 anni di Favara. Inviata da un cardiologo del territorio che necessitava dell'impianto di pacemaker che poi veniva impiantato l'indomani, subito dopo un arresto cardiaco transitorio, nonostante il medico dei guardia insistentemente avesse chiamato più volte la signora se fosse stata a contatto con persone a rischio di coronavirus. Ella rispondeva sempre negativamente e dopo aver effettuato una radiografia del torace molto sospetta, veniva sottoposta attacca toracica e suggestiva per infezione da Covid-19, per cui veniva effettuato un tampone per confermare il sospetto. Nel frattempo, solo 12 ore dopo dal ricovero, la paziente ammetteva di essere stata vicina a un congiunto proveniente da Milano. L'esito del tampone, risultato positivo, ci induceva a trasferire la signora in un centro Covid-19. A seguito della positività della suddetta paziente, a distanza di 24 ore, tutti gli operatori sanitari della cardiologia e due pazienti venivano sottoposti a tampone. Risultato poi positivo in un emodinamista e in un'ausiliaria che non avevano avuto nessun contatto con la signora in questione, mentre tutti gli altri erano negativi. Infine una paziente di Mussomeli, ricoverato dal 22 febbraio per grave scompenso cardiaco, il 16 marzo veniva sottoposto a coronografia e a controllo radiografico del torace, che risultava sospetto per polmonite da coronavirus. Si decideva quindi di eseguire il tampone, che non è stato possibile effettuare, perché il paziente la mattina del 19 marzo è deceduto e nonostante ciò veniva effettuato lo stesso. Il 21 marzo si apprendeva che il paziente era positivo al coronavirus. Analizzando quindi tutti i dati a disposizione per il dottore Caramanno, possiamo concludere che ragionevolmente la prima paziente sia stata contagiata altrove, sicuramente non in ospedale. Il paziente deceduto da Covid-19 positivo abbia contagiato sia l'emodinamista che l'ausiliaria. Terzo, resta da chiarire quando e dove il paziente deceduto abbia contratto l'infezione da coronavirus. Quarto, non esiste nessun vocolaio nella cardiologia di Agrigento. Mi preme sottolineare ancora una volta che nonostante i casi verificatosi nel mio reparto del nostro nosocomio, i cardiologi agrigentini continuano a svolgere regolarmente il proprio lavoro dopo aver sanificato i locali e disposto alla quarantena dei soggetti risultati positivi. Come già ribadito, è probabile che nelle prossime settimane pazienti di Covid-19 potranno presentarsi nel nostro reparto, specialmente quelli affetti da infarto miocardico, acuto, che afferiscono direttamente in sala di emodinamica, senza transitare dal pronto soccorso. In queste settimane, afferma Caramanno, abbiamo potuto constatare che alcuni pazienti stanno sottovalutando i sintomi dell'infarto, ritardando il ricovero o addirittura restandosene a casa per paura del contagio con conseguenze spesso disastrose, per cui invito coloro che presentano sintomi come dolore toracico o difficoltà respiratorie a chiamare subito il 118 che provvederà ad eventuale ricopere in ospedale dove ci sono a disposizione dei professionisti che tratteranno tempestivamente al meglio le patologie cardiache.